Musica Potente appara ragazzi, qua Vax, l'ho giomigato, oggi sono da solo e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è finalmente un nuovo faccola per l'inghia, infatti oggi 16 aprile del 2014 giorni in cui sono iniziate le vacanze pasquali, è uscito un nuovo team of the week ma guardiamo un po' che giocatori ha perché infatti Popo Tattici ha Coutinho, Hulk, Higuain e questo Quintero che ha 4 stelle abilità no no perché l'anno scorso aveva 5 quindi pensavo, ah no non l'avevo visto ma c'è anche Andanovic quindi noi ovviamente spereremo di trovare qualcuno o forse no perché dico forse no perché ragazzi ho deciso di fare, non dico questa sfida ma di questa magicata in questo pack opening perché io andrò ad aprire 10 pacchetti per ogni pacchetto in cui andrò a trovare un giocatore valutato 81 o più non succederà niente ma se in un pacchetto non troverò nessun giocatore valutato 81 o più sarò costretto a mettere in un giveaway o meglio in un contest in palio 7500 crediti e così poi a fine pack opening andrò a calcolare in quanti pacchetti avrò trovato un giocatore con più di 81 in quanti no, andrò a moltiplicare i pacchetti in cui non li ho trovati per 7500 e quelli di 7500 faranno da monte premi per un contest come partecipare a questo contest ragazzi facilissimo bisognerà solamente commentare questo video e aver messo mi piace al video poi vabbè bisogna essere iscritto al mio canale perché faccio ciò per rendere un po' più tattico il pack opening diciamo io direi di partire subito con questo primo pacchetto e il primo pacchetto vediamo chiudiamolo no 80 mannaggia quindi 80 quindi vi devo già o meglio devo già 7500 crediti siamo partiti alla stragrande dunque e andiamo avanti mamma mia vita oddio eh 82 e andiamo e andiamo pensavo fosse Cristiano Ronaldo pensavo fosse Cristiano Ronaldo oddio che brivido che brivido madonna mi si è raffinato il cuore vatti va bene quindi vi devo ancora 7500 diamanti oppure potevo sottrarvi no vabbè fa niente terzo terzo spacchettus oh mio dius oh mio godus e nooo no mannaggia lulic valutato 79 quindi il monte premi si alza e va magicamente a 15000 crediti e noi andiamo ci attingiamo ad aprire questo quarto pacchetto dai oh questo lo vedo questo lo vedo questo lo vedo ragazzi mi sento strano perché ho l'allergia no che schifo ciao per l'ira quindi siamo arrivati a 22500 mannaggia quinto pacchetto e andiamo alaba alabas alaba 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 no minchie quindi nel quinto pacchetto non abbiamo trovato niente quindi il monte premi non so neanche già più quanto sia andato oh mio dio ancora niente quindi aspettate un secondo non è che mi serve la calcolatrice ma voglio essere più sicuro credo di essere già a 37500 crediti da dovervi dare oh mio dio di 7 pacchetti credo credo proprio di si questo è l'ottavo e andiamo con l'ottavo ottavo pacchetto ottavo pacchetto e troviamo si vorm 81 più ho detto anche oh mio dio quindi non vi devo ancora nulla dai oh questo è buonissimo nono pacchetto no non so non mi ricordo neanche più facciamo che siamo nono siamo nono nono pacchetto dai schifo quindi non abbiamo trovato niente ciò va a far più felici voi perché il monte premi si alza e bola a 45.000 ebbene vai messi lionel lionel per questo ultimo pacchetto dai lionel e andiamo e andiamo si madonna era in forma fino a un'ora fa che palle abbiamo trovato Rodriguez che però era in forma tiff mi sembra fino a un'ora fa quindi lol però trunk e ragazzi adesso io andrò per l'ultimo pacchetto ma vi voglio fare prima una magia perché se noi contiamo o meglio contiamo da 3 a 0 guardate un po' 3 2 1 oh mio dio ci sono spuntati gli occhiali sugli occhi oh mio dio e andiamo e andiamo per quest'ultimo pacchetto di questo mio pack opening troveremo in forma battiamo due volte ma le parole in forma già sarete fatte anche voi eh speriamo di si e troviamo no ancora siamo ah un giro no ma così non va bene no che palle allora quindi questo pacchetto io ve lo abbono e ve lo metto quindi nel monte premi che diventa di 52.500 quindi se voi commentate il video siete iscritti al mio canale e avete messo mi piace avete la possibilità di partecipare a questo contest di 52.500 crediti ora io andrò ad aprire quest'ultimo pacchetto nella quale tutti dovremo abbattere due volte le mani e eh usare dita mi viene al nome e guidiamo no porca valero non abbiamo trovato nulla comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia anche piaciuta quest'idea del monte premi questo perché perché alla fine io utilizzo i crediti per fare un pack opening e se non trovo niente do la disponibilità o meglio la possibilità di fare un altro pack opening a un altro mio iscritto o meglio visualizzatore di questo video quindi è una cosa abbastanza ambigua e boh detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi esorta lasciate un bel mi piace lasciatelo vediamo se arriviamo a 3.000 ragazzi io li ho chiesti e noi ci dobbiamo arrivare e detto questo vi saluto vi dico potente pala se neanche il prossimo video bolla